Coronavirus e sanità nel Lazio. Ecco cosa ne pensa la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Chiara Colosimo. Credo che la psicosi non pagai, credo che questo nostro bello stato sia sulla sanità uno dei primi al mondo. Non a caso le ricercatrici dello Spallanzani hanno isolato il virus in 48 ore e credo anche che in questi casi bisogna affidarsi a chi fa di mestiere il medico e il ricercatore. Quindi avere paura del contagio tanto per non risolve il problema, anzi forse ne comporta di nuovi. Bisogna semplicemente usare le norme che normalmente si usano igieniche e fare evitare magari di andare in Cina in questo periodo. E l'uscita della regione Lazio dal commissariamento per la sanità? Credo che l'uscita dal commissariamento, se confermata dal Consiglio dei Ministri, perché la formalità si avrà soltanto in quel momento, sia per la regione Lazio il momento in cui non ci sono più scuse. Tutto quello che si è tagliato in questi anni lo hanno pagato i cittadini. Tutti gli annunci fin cui fatti non hanno portato a niente se non diminuzione dei posti letto, diminuzione del personale sanitario di tutti i campi, dagli infermieri ai medici e soprattutto liste d'attesa infinite. Quando si parla di liste d'attesa uno pensa a una cosa magari grave che deve andare a controllare, in realtà anche un elettrocardiogramma da sforzo può essere un problema prenotarlo. Davanti a tutto questo, avendo noi una sanità straordinaria fatta di professionisti straordinari, noi dobbiamo andarlo a scardinare. Con l'uscita dal commissariamento bisogna rimettere in moto quello che è uno dei punti d'eccellenza dell'Italia, la sanità.